Musica Questo elenco di suggerimenti Un vademecu per il pubblico Intanto salutiamo anche la FICR Federazione Italiana di Cronometristi impegnati appunto in questa edizione Ma salutiamo anche Intanto lasciamo che si sta già rinfocinando Ovviamente prima della partenza Lorenzo Oliviero con Lucrezia Viotto Loro che sono i primi in Suzuki Cup Racing Star Attualmente in questa classifica Loro ottantesimi assoluti lo scorso anno Però un bel trofeo a cui vi vede in testa In questa Racing Star Sì, non vediamo l'ora iniziare Per difendere la nostra prima posizione Prove sempre bellissime qui Impegnative Siamo pronti Vetture 1000 Turbo Vettura, penso, divertente da guidare Sì, molto leggera Poco potente ma molto leggera Ti insegna Ti insegna andare Perché ogni errore Ti lo fa pagare Assolutamente sì Quindi vi seguiamo da vicini Qui siamo all'interno Sempre del trofeo Suzuki Rally Cup Nella categoria Racing Star Questa è una 1000 Come detto te Tre cilindri La bussa Questa è una 1000 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 Grazie a tutti i nostri amversari, nelle ultime due prove, complimenti a loro e anche agli amici. Quindi complimenti ai ragazzi, grazie per aver ottenuto alto il vostro nome sulle strade simbolieri e radiotti.